La risposta o la conseguenza dell'atto è sempre proporzionata all'azione. Entità A. Maestro Andrea, attraverso Corrado Piancastelli. Domanda. Tutto questo ripropone volenti o nolenti il problema della libertà. A questo punto essa diventa sempre più un'utopia e ridotta o diversa proprio entità A. Lo spirito ha la libertà di muoversi, di progettare, ideare o pensare. Ma nel momento in cui agisce le conseguenze sono quelle e non altre. Allora non si può neppure dire che non ci sia libertà. La risposta all'azione è sempre giusta. Mentre potete liberamente decidere una cosa ma avere delle conseguenze completamente diverse da quelle attese. Invece la conseguenza di un atto di libertà è sempre costante. Voglio dire in termini banali che un'azione dello spirito non avrà mai una risposta ingiusta. Non vi sarà mai un'ingiustizia. La risposta o la conseguenza dell'atto è sempre proporzionata all'azione. Io spirito posso scegliere se voglio di incarnarmi domani mattina. Posso farlo se voglio però incarnandomi così certamente commetterei uno sbaglio. Perché io non devo incarnarmi domattina ma posso deciderlo. A questo punto però non potrei lamentarmi di tutto ciò che potrebbe accadermi da domani in poi. Perché dipenderebbe dalla mia decisione sbagliata di incarnarmi. Quindi la libertà c'è. Però c'è anche una risposta sul piano della giustizia. Perfettamente coerente che io dovrei subire per effetto di un'incarnazione sbagliata.